Caserma dei Carabinieri, quali comuni mancano all'appello? Ne mancano pochi, oramai la sottoscrizione sta andando avanti bene. Mancano tre comuni che ci incontreremo a breve, che quindi sono Gandellino, Fiorano e Valbondione, per cercare di sciogliere alcune domande che ci sono e che sono necessarie da affrontare. Mancavano cinque comuni che a questa sera non avevano ancora risposto, dopo che dal 28 di settembre i comuni di Alzano, Villa di Serio, Ranica e Prada Lunga avevano ricevuto questa comunicazione. Questa sera ne abbiamo ricevuti ancora, hanno firmato, quindi anche grazie all'intervento del Presidente di Comunità Montana siamo riusciti ad arrivare oramai a 35 firme. Quindi poi c'è comunque tutto un ulteriore percorso da fare, i dubbi e le problematiche ci sono, anche altre domande da parte dei sindaci. Quello che nuoceva un po' l'amministrazione di Crusone che ha lanciato questa iniziativa era quella di non ottenere dopo un mese una seria risposta di un sì, di un no o di un forse. Questa sera, almeno chi ancora non si era espresso, ha deciso finalmente di apporre la propria firma. Appunto questa sera ha fatto un forte richiamo in assemblea a questo proposito. Sì, tutti spendono parole sulla sicurezza, sui cittadini, sul garantire al territorio e poi se per firmare una lettera ci impieghiamo 30 giorni, forse i cittadini e i ladri intanto gironzolano. Quindi più ci diamo da fare per questo tema, meglio è, e quindi ho fatto un richiamo non solo io, ma anche il Presidente, che questi cinque comuni che mancavano dovevano fare il loro dovere per quello che vivo io in questa situazione. Ma ripeto, il percorso è lungo, ma dobbiamo restringerlo più possibile perché si sta parlando di sicurezza dell'arma dei carabinieri e soprattutto dei nostri cittadini. Prossimi passi? Prossimi passi, incontrare il prefetto, comunicare assieme al comandante dei carabinieri, il colonnello Storniolo, che i sindaci hanno condiviso amministrativamente questa scelta e poi iniziare a prendere i documenti, le carte, elaborare il progetto e quindi andare spediti su quello che secondo me è la soluzione ottimale per la nuova caserma dei carabinieri post acclusione. Come ha detto qualcuno, perché in campo gli enti locali quando la sicurezza è un compito dello Stato? Perché in questo momento ci aspettiamo un governo centrale, uno Stato centrale che non si ricorda neanche ad avere dei cittadini, i nostri cittadini non stanno troppo bene. Quindi gli amministratori in questo momento si prendono anche questo ulteriore compito e ulteriore incarico, ma non è l'unica domanda a cui dovremo dare una risposta perché anche sul finanziamento per la ristrutturazione della caserma bisognerà vedere. Per sostenere i costi di dove andrà messa la caserma, la sede della comunità montana dovremo valutare.